musica 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 Ed eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale Qui è sempre Uchikagimer che vi parla e siamo tornati su Far Cry 6 Siamo qui esattamente nel punto in cui ci siamo salutati la scorsa volta O meglio siamo più o meno nei pressi della clinica di Mattias Il medico che abbiamo conosciuto qualche episodio fa Che adesso ci ha curato e tutto perché il medico che abbiamo incontrato lì Il dottore, il ricercatore che era lì al comizio o comunque insieme a Maria Ci ha avvelenato, ci ha drogato, non so, ci ha inserito un qualcosa, una sorta di cellulare nel fianco Ce lo siamo estratti ed eravamo, stavamo morendo dissanguati e Mattias ci ha curato E adesso lì c'è Paolo E forse questa è l'ultima quest di questa zona, può essere Vediamo Lì mi Pichu è venuto in merito Screaming about Bembe Blaming him for what happened to you, me, and Talia Last night, he took off while we were sleeping I think the idiots got after Bembe Don't know how Pichu thinks he's gonna track him down Pichu always had her back And we never Just find the little shit, okay? We're going to war I need to rally our people Train them That means no one gets left behind Even Pichu Good luck At this stage Every guerrilla counts Eh va bene, andiamo a catturare Andiamo a cercare Pichu Che a quanto pare si è messo nei pasticci Non si passeggia con i fucili in mano Eh caspita Ah lì la caccia al tesoro, ok Che poi le farò le caccia al tesoro Le farò tutte e poi più meno Appena avrò modo di Allora, qua ci deve essere sicuro qualcosa No, ok, non c'è niente Ehi, 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 ehi Chi vi ha detto di perquisire? Ehi, 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 ehi ma dai mi sono guadagnato un cavallo No, sei imbizzarrito Dai, ma per un po' d'acqua Mamma mia, non è neanche tanto alta Stupido cavallo Vabbè, avrò sicuramente tagliato Questa parte perché, cavolo, due chilometri così No, ma sei contro un puma Vabbè, cavatela da solo Dopo tutto è un soldato, no? Posso, ragazzi? Cogno, Italia went off I don't even know what to say Easy now, easy Bicio Spero solo che non stia facendo questa quale pazzia adesso quel ciccione Ebbè, perché mi sembra che poi Italia ha rischiato di rimanerci secco E lui si è... Arrabbiato E adesso è assettato di vendetta perché è Bembe Ci stava vendendo praticamente Ci stava Ma si sapeva che Bembe non era uno di cui fidarsi Per cui adesso andiamo lì E sperando di trovare Bembe Magari lo facciamo Parlare Eccolo lì Ok, intanto qua si è aggiornato Far Cry 6 Ok, vai 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 Ci stiamo avvicinando Eccolo Eccolo piccio piccio you crazy come m***a where are you fino a che è baronato eh danni è troppo il mio idolo e per una volta mi sento utile sto facendo strada nel mondo ok qua vediamo 10 se di me puoi contare in questo paese di m***a dobbiamo restare uniti vuoi una pistola? un po' mi sorprendi ma te l'ho recuperata insieme a proiettili sufficienti da renderti famoso ecco l'altro deve avere una ricca come si benbei's buying weapons from the military looks like the handoff was at the rodeo Seconda lettera Come on, Bembe. I should check that warehouse. If I find Bembe, I find Bicho. Be alive, mi socio. Oye, Paolo. I think Bicho's done something stupid. What's he done this time? He's really going after Bembe. Stupid like mierda. Don't worry. I'll find him before he digs himself too deep. Don't worry. I'm a friend. Andiamo. Allora, ce n'è uno lì vicino e uno là, quindi... In uno dei due punti deve essere. Andiamo nel primo punto, il più vicino, da qua. Maia. Noi. 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 Andiamo dall'altra parte. Vamos, vamos. E ci sono le galline in giro E qua Vai, vai E che è sta musica lirica adesso? Allora, mi sarà una strada Ok, qua Ma ci siamo Vai Sperando che sia qua, bicio Wow Oh Hostage situation Che che mi sta sparando se non lo vedo? Get over here Che che mi sta sparando? Stop Che che mi sta sparando? Ah 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 Ah! 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 Vieni? Ok Non c'è nessuno che c'è proprio dove c'è il posto, ma è in Cruz del Salvador, vicino alla fronte, è tutto quello che ho conosco, per favore, lasciami andare! Paolo, vedo dove trovo Bambè. E allora dove c'è Bicho. Esatto, senti qui Paolo. Finito il mio cavallo, lì. Andiamo a salvare Bicho, dai! Un po' d'azione c'è stata. Speriamo solo di fare... Ho di fare in tempo ad andare lì. Io spero solo che Bicho non abbia fatto chissà quale pazzia. ... 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 .. ... ... Sali! Deve essere qua, la cassa! Trò, non la vedo. Io, qui, non vedo nessuna cassa... Boh Vabbè Magari è dentro la casa Vabbè 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 We need to hit El Doctor You need to stay here We need to move We're not abandoning them No, Massimo's Mantanzas is Libertad That footage from Castillo's zoo Showed the cost of his paradise The concert inspired thousands to join us Radio Libertad inspires more But you've become a distraction Maria's dead Bebiro is our new target El Doctor is the key to fuck up Castillo's money machine And he's in the Capitol He's not there My people have eyes on him We were face to face El Doctor is addicted to his work He's not going anywhere Matias Asinta Sergio Estevez El Doctor is a right-hand man Murdered hundreds with his medical trials That's how we get El Doctor Weren't you running to America? Found your cojones a little late I knew you were military Pablo You're right I'm not your leader But you've had one foot out the door Now Talia's committing executions Revolution is chaos But a leader creates their own order Let's go You're called, Dani Pedro Torreiro Now that was a fucking musician Now that my mom and papa are gone We need Sergio I'll find him Then we pay El Doctor a visit So we're going to find him So we're going to find him So we're going to find him Danny, Juan, got a problem My old friend Big Papi went dark over a peninsula on the east coast He was flying in a valuable Package That could make or break libertad What? Weapons? Juan, who is this guy? Papi is my Consultant And one hell of a guerrilla Famous Saw him take care of me in Sicario With nothing but a towel Worried he got shot down? Or crashed Just make sure he's ok And get that package Vai, vai, vai Siamo quasi arrivati C'è Buona casa, ma essere un truadino paga in peso. Checkerside. Hey, è Paolo. Just so, you should know what kind of monster Sergio è. Come mierdas, carried out thousands of fucked up experiments on outcasts. Even kids, Dani. It's fucking sick. And all of it just to make Paiovida rich. C***o, I've got to get this piece of shit. You will. Suerte. Paolo, did you send backup? Sì. Let them take care of us on us. Just focus on finding Sergio. Grazie. C***o. Che c***o sei, che c***o? Sì. Sì. Non c'è! Cosa sopra? Ma non so come andare sopra. Viva bel fuoco. Allora come vado di sopra? Get up here! We got them! Ci deve essere un altro terrazzo qua da dove poter salire. C'è qualcosa là? È sicuro che c'è qualcosa di là? Oh, è qua sopra. Cosa hai parlato con Sergio? Sergio, è il Guerreiro. Il Guerreiro è vicino a te. Venite a me e ci serviremo la protezione che bisogna. Castillo non può affrontare a te. E nemmeno io. Abbiamo tantissimi attività di completare. Io, il puto è stato tippato. Cosa? 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 magari quando mi imbeco qualche brutta sorpresa sai non si sa mai però non vale quello è partito 30 secondi prima tu qua ci mette una vita ad accendere i motori stop borrowing me get the fuck out of here Anton will kill you for this do you know how much he's coming from you don't know who you're messing with I'm not sure how much he's coming from I can't help him stop following me Get the fuck out of here Concussion, grade to or higher Laceration, dislocated shoulder Ah, DS Amy Gaze You're going to treat me to prove you're the better, doctor Where the fuck is El Doctor? The Vivero Processing Center, building 13 What the fuck, Paolo? You think El Doctor could run the outcast camps without people like this piece of shit? None of this None of this whole fucking mess would be happening without doctors like him Fuck him I'm all out of mercy And significant trauma to the skull Shit C'è tutta sta fatica Per seguirle questo gli ha sparato Vabbè Oh, però somiglia al fratello di Tizio Cioè, della cosa Danny Come meet me at the lookout near the biovida lab We're going to hide the doctor where he lives About fucking time You and I are going to kill him, Danny And we're also here Castillo where it hurts most His fucking wallet Well, look at that, Paolo You made me smile See you soon Ok Molto Bene ragazzi Direi che per oggi Possa essere tutto La prossima volta Ripartiremo da qui Io, come sempre Vi invito a lasciare Un bel like A commentare Condividere Iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto E Alla prossima Ciao belli